Omelia Giovedi Santo Anubi Giovanni 13,1 15 Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Di Giacomo Biffi. Secondo la testimonianza del Vangelo di Luca. Gesù si mette a tavola per l'ultima volta coi suoi discepoli dicendo queste parole. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Luca 22,14 Queste parole ci sembra stasera di risentirle rivolte anche a noi. Il Figlio di Dio crocifisso per noi è risorto che non ha certamente bisogno della nostra attenzione e del nostro affetto desidera ardentemente di averci suoi commensali e di ammetterci alla sua intimità. Un'intimità superiore ad ogni altra. È l'intimità che ci deriva dal suo sangue versato per noi e dal suo corpo che ci viene donato. E noi che senza di lui vagheremo nel deserto dell'esistenza come creature miserabili e smarrite. Talvolta tentiamo di sfuggire a questo amore gratuito e di sottrarci al suo abbraccio che salva. Ma questa sera siamo qui ben decisi a diventare più saggi e non deludere le attese di chi si è. Dato tutto per noi. Noi stiamo rivivendo la cena del Signore. Non è il puro ricordo di un fatto avvenuto una volta a Gerusalemme e ormai perso in un lontano passato. È una memoria che anche oggi è arricchita della medesima realtà di quella prima celebrazione. Sotto un rito semplice e significante. Il Signore Gesù si fa davvero presente con la sua persona adorabile. Col suo sacrificio che ha sancito la nuova alleanza. Con un nutrimento arcano la sua carne per la vita del mondo. C.F. Giovanni 6,51. Che ci consente misteriosamente ma realmente di vivere la sua stessa vita. La cena del Signore. Che qui rievochiamo. Non è dunque un'esperienza remota ed estranea. Che impallidisca sempre più con l'implacabile fuggire dei secoli. Al contrario. Ci propone una partecipazione personale e coinvolgente all'avvento centrale della storia. Che è reso presente. Non è la cenere di un fuoco irrimediabilmente spento. È la fiamma di un amore che continua a divampare nei cuori. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. L'istituzione dell'Eucaristia avviene. Come si vede. Nel contesto del banchetto pasquale ebraico. Quando in obbedienza alle prescrizioni ricevute da Mosè. Chi abbiamo riascoltato nella prima lettura ogni famiglia mangiava un agnello immolato. Quell'agnello nella coscienza israelitica raffigurava. Compendiandole in sé tutte le vittime di espiazione e tutte le sofferenze innocenti. Lo strazio di Abele, trucidato dall'invidia del fratello Caino. L'angoscia di Isacco già disteso sulla catasta dell'immolazione. Lo sgomento di Giuseppe venduto dai suoi familiari a ignoti mercanti. Il pianto della vergine figlia di Iefte, sacrificata dal padre. Il sangue di Zaccaria, il profeta abbattuto tra il vestibolo e l'altare. Fino al martirio di Giovanni il battezzatore. Ultima voce della rivelazione antica e primo annunciatore dei tempi evangelici. Ma soprattutto in quell'agnello che gli sta davanti sulla mensa Gesù riconosce se stesso. Nella sua prerogativa di vittima unica è pienamente sufficiente per il riscatto dell'intera famiglia umana. Le figure sono finite. Colui che era stato in esse presagito e aspettato ormai è presente. Le avvera tutte e tutte le oltrepassa. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Is 53,7. Così era preannunciato nelle pagine di Isaia il servo di Yahweh, trafitto per i nostri delitti. Schiacciato per le nostre iniquità. Isa 53,5. Davanti al pane e al vino che agli apostoli e a tutti noi egli consegna trasnaturati e colmi della sua passione redentrice. Il figlio di Dio accetta interamente il disegno del padre e si dispone a prendere su di sé tutto il male del mondo. Per espiare ogni colpa, ogni ingratitudine, ogni ribellione. Come ancora sta scritto. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Punto. In conformità a questo progetto eterno. Gesù distende liberamente le braccia sulla croce in una suprema offerta d'amore. E nel pane santo della vita eterna, e nel calice dell'eterna salvezza, racchiude per sempre ci. Ripresenta la realtà e il valore di questo olocausto. Perciò San Paolo ci ha detto che ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice. Noi annunziamo la morte del Signore finché egli venga. Cf1 Cor 11,36. In ogni messa noi annunziamo la morte redentrice dell'agnello. Lo stesso agnello che ora vivo e splendente nel santuario celeste ci dice l'Apocalisse, è degno. Di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. A P 5,12. Prorompe dunque dall'azione eucaristica un messaggio totalizzante. Che proclama in sintesi l'intera vicenda salvifica. Un messaggio di immolazione e di vita. Di sconfitta e di vittoria, di umiliazione e di universale e definitivo dominio. Tutto questo ci viene rammentato quando. Al momento di cibarci del pane celeste. Lo stesso Signore Gesù nella realtà della sua palpitante presenza viene offerto alla nostra. Fede con le parole. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Entrare in comunione con questo agnello significa assimilarne l'indole e la missione. Significa rinunciare a ogni forma di prepotenza e a ogni rancore. Per incamminarci sulla via della mansuetudine e del perdono. Significa abbandonarci fiduciosamente e pazientemente a quanto il Padre ha stabilito che ci avvenga. Per il bene nostro e della Santa Chiesa. Significa accettare di spenderci per Cristo. Che è morto e risorto per noi e per ogni uomo che è sempre la sua immagine viva. Di soltanto una parola io sarò salvato. Noi diciamo. Questa parola che salva. Questa sola parola che spiega tutto. La parola che tutto racchiude e tutto trasforma. La parola che il Signore ci sussurra in questa sera suggestiva del Giovedì Santo è la parola. Amore.